ciao ragazzi buongiorno a tutti buongiorno a tutti è un grande piacere cominciare questa bellissima giornata di solito si comincia con l'antipasto il primo il secondo però siamo già al dessert qui siamo già al dessert quindi abbiamo qua renato falconi e romina minutolo io devo dire che mi sento un po in difficoltà oggi a parlare ma non davanti a tutto questo pubblico ma perché c'è una persona particolarmente attraente qui sul palchetto che devo dire mi mette un po in agitazione renato ti prego smettila di essere così sexy non ti fisso più va bene d'accordo quindi sto un po più vicino a lei allora abbiamo due personaggi che intanto sono contento che non si conoscono fra di loro perché quindi hanno la possibilità di confrontarsi ed avere un po una prospettiva un po a fresco a nudo come dire e quindi a me piacerebbe partire un po nel confrontare la vostra prospettiva su il tema un po di questa chiacchierata che sarà quindi la satira e mi piacerebbe partire intanto ricollegandoci alla satira su una cosa che abbiamo anche trattato ieri grazie a diciamo new entry una nuova scoperta di questo cogito festival che è stato nicolò e mi piacerebbe sapere ovvero il vostro la vostra idea soprattutto diciamo in questo periodo storico riguardo alla sensibilità sulla sulla satira nicolò ha parlato molto della capacità di essere auto ironici di non prendersi troppo sul serio e la satira in realtà è qualcosa dove soprattutto quando si trattano certi temi un pochino più delicati non è facile né essere auto ironici nei confronti del pubblico ma soprattutto anche non è facile una persona riesca a capire il messaggio che c'è dietro la satira e voglio fare un po la stessa domanda a tutti e due ovvero come voi cercate di ricollegarvi e qual è il vostro rapporto con la satira nei confronti di chi non riesce a capire un po il vostro messaggio a chi ha questa sensibilità poi può aprirsi un'altra discussione su quanto effettivamente sia vero che adesso la satira o comunque ci sia una sensibilità maggiore riguardo alcune tematiche quindi è più probabile che magari alcune persone se la prendono ancora più personalmente su alcune battute o se magari in realtà c'è sempre stata questa sensibilità ma semplicemente grazie agli strumenti che abbiamo oggi questa sensibilità si sente ancora di più quindi come se fosse sempre esistita ma oggi ci sono più mezzi per esprimere questa propria insicurezza che si ha verso alcune alcune cose personali quindi rifacendo la domanda qual è il vostro rapporto un po con chi non riesce a capire la satira e chi ha questo tipo di sensibilità è qualcosa che voi trovate giustificabile è qualcosa che ci sarà sempre secondo voi o c'è un modo per capire ancora di più l'importanza della satira e di non prendersi troppo sul serio comincia da chi vuole allora io grazie per la domanda però l'hai capita intanto sei cattivissimo perché sei partito subito col piede de porto è una domanda difficile per il senso non è che uno non voglia essere interessato alla sensibilità altrui però la prima cosa che fai quando crei una canzone un testo è innanzitutto cercare di rispettare la tua di sensibilità e cercare di trovare il divertimento cioè deve essere convincente innanzitutto per te quando sei abituato a fare dei contenuti un po' forti ma li chiamo forti perché ormai è forte tutto esatto cioè dovrai caschi male quindi uno dovrebbe sta mutuo a vita proprio no e a quel punto lì ecco io volevo aprire questa parentesi qua adesso la sensibilità secondo me è più della della massa sai la psicologia di massa cioè l'individuo pensa in un modo preso singolarmente lo metti in mezzo a 20 persone che assistono a uno spettacolo a una perfetto qualsiasi cosa e quell'individuo lì diventa parte della massa quindi è come se non fosse più se stesso in un certo detto così suona malissimo però è adesso più che la sensibilità c'è questa esigenza col fatto che abbiamo i social di mostrare non so se ci avete fatto caso il mio pensiero magari sbaglio una certa superiorità morale cioè tutti devono dire la loro riguardo certe reazioni perché ci tengono a stare dalla parte del giusto se possono dire le cose un po' piccantine tutto quello che vuoi allora signore e signori se devi insultarmi insultami no ma tesoro ma io te amo lo sai e c'è da dire una cosa fondamentalmente che molto spesso la superiorità morale è è sinonimo di buonismo il buonismo signori diciamocelo scusate in anticipo ha rotto il cazzo ha rotto il cazzo sì ha rotto il cazzo si può dire cazzo ma certo mi adoro puoi dire pipo se vuoi ci ha rotto il pipo nel senso che non si può non si possono far felici tutti adesso bisogna esporsi nel senso che secondo me per fare dei contenuti originali bisogna comunque essere fedeli a se stessi o creare qualcosa che innanzitutto faccia divertire te quindi in questo senso qua posso dispiacermi per il fatto di non arrivare e non piacere alle volte essere anche sgradevole agli occhi cioè io la canzone che più ha funzionato nella mia vita non avrei mai detto si chiama magari mori cioè ragazzi perché è un in alla vita dove vado giù un pochino pesante facendo no con queste figure retoriche quindi molti non l'hanno presa proprio benissimo però ecco io sono del team del cioè prendila e ridere perché sennò te la prendi in un altro posto cioè nel senso la vita va presa dal punto di vista cioè se non ridi delle cose è molto più difficile affrontare le brutture quotidiane eccetera adesso lascio no no certo ci tengo solo a concludere questo discorso che hai fatto che secondo me è molto importante ovvero se tu ti vuoi esporre devi prendere delle posizioni e quindi qualcuno tu non accontenterai ma questa non solo diciamo secondo me riesce a darti un'identità più chiara di quello che ti piace di quello che tu sei ma anche vuol dire io non voglio cercare di accontentare tutti perché è qualcosa di impossibile sei il peggio dei democristiani possibile però sai nel senso allora i gay li rispetto però al tempo stesso però mi piacciono sono quei discorsi che non hanno né capo né collo e il saper prendere una posizione oggi è qualcosa che a me fa ridere però è rischioso ma al tempo stesso è qualcosa di necessario cosa hai tu da ridere? né capo né collo cosa bisogna dire? né capo né coda né capo né coda bravissimo ringrazio la regia per correggere i miei strafalcioni cioè abbiamo del bullismo registico qua però potrebbe essere che non abbia né capo né collo cioè quindi è qualcosa di abbastanza limitato è uno che sta benissimo e beh mano mano degli adams non ha né capo né collo effettivamente ha né capo né collo bravissimo saper prendere una posizione quindi saper prendere una posizione Renato sarà difficile continuare dopo quindi dicevo signor Renato allora da De Boni da De Boni mi raccomando allora dal mio punto di vista secondo me iniziare il discorso dicendo dobbiamo pensare alle sensibilità parlando soprattutto di comicità e satira e qualcosa di ma si sente un po' strano? o lo sento solo io? ah no mi sento un eco? ti senti strano? ok no va bene quello sempre quello sempre adesso lo sento meglio no no è come prima comunque c'hai le voci? c'hai le voci? mi sento bene stai zitto stai zitto sei un po' gollum oggi mi sa che non riesco a farlo allora no dico la satira nasce per essere dissacrante nasce per rompere barriere nasce per infastidire ok? quindi accostare alla satira la tematica della sensibilità è qualcosa di veramente impensabile se non oggi che la leghiamo ad un contesto perché è ovvio che se io faccio uno spettacolo satirico dei contenuti forti adesso io parlo così facciamo un esempio amo il black humor e adoro fare battute sui morti è ovvio che se io quel contesto quel pezzo lo metto in un contesto che è il social è ovvio che troverò qualcuno che ha avuto un lutto o che non ama le battute di black humor ma quel contenuto non viene filtrato da una scelta perché il social ti mostra direttamente quel contenuto e tu non è che hai tutti questi mezzi per dire vabbè è un social mi mette qualsiasi cosa vai e commenti cioè io sarei anche da un certo punto di vista un po' meno critico verso chi si lamenta verso la mancanza di sensibilità di certi contenuti perché mi immagino anche tutta una serie di fasce d'età che non hanno il tempo di capire perché stanno guardando o non guardando quel contenuto e infatti questi problemi di politicamente corretto o morale o buonismo si hanno soprattutto sui social perché ormai la tv ha capito che se non vuoi rotture di cazzo non devi fare satira infatti in televisione non vediamo più satira non so da quanti anni cioè forse l'ultimo spettacolo veramente satirico me lo ricordo ai tempi di Daniele Luttazzi perché dopo di questo tutto si è smussato enormemente ma perché? perché abbiamo legato non solo la tematica della sensibilità a cosa si può dire o non si può dire per offendere la gente ma sta diventando anche un fattore di marchio di azienda che ci mette la faccia e allora io che sono la Rai che sono Mediaset o che sono l'azienda che vuole che il comico mi offra un contenuto se quel contenuto può offendere qualche mio cliente dico al comico ma questo contenuto si può non mettere e questo si riversa in parte sulla libertà di azione di scelta del comico che personalmente può scegliere la sua gradazione di di trasgressività oppure di satira lì è una libera scelta però in questo momento si avverte da comico soprattutto per quanto riguarda contenuti online che quindi ormai hanno una distribuzione senza filtri si avverte una sorta di peso per cui inizi a pensare a un'idea e dire posso farla questa cosa qua senza che mi venga bannata la pagina perché ormai è una tematica come ho detto prima aziendale ma è anche una tematica di algoritmo per cui l'algoritmo non capisce neanche il tuo contenuto vede delle parole chiave che se sono sbagliate ti bannano se va bene il video se no ti bloccano la pagina oppure hai tante segnalazioni quel contenuto è sbagliato perché hai tante segnalazioni al di là della qualità degli intenti o del significato di quel video quindi questo momento storico da una parte non è totalmente giusto dire che il buonismo la morale politicamente corretto stia bloccando in qualche modo la libertà di espressione di un artista perché un artista che fa uno spettacolo live è liberissimo di fare quello che vuole tutto qualsiasi cosa persino fare uno spettacolo con Dufer volendo fai sta cazzata sì la faccio piuttosto vai a cantare le canzoni dei cartoni a fratelli d'Italia ma con Dufer no con Dufer però qual è la differenza netta è che lì la scelta è chiara vado a vedere quello spettacolo ok e qui non c'è niente da dire ovvio può arrivare una persona che dice cazzo non mi immaginavo questa cosa qua alza prende se ne va come sta facendo il signore ma ma è una scelta oggi purtroppo i mezzi di comunicazione molto spesso non ci fanno percepire che è una scelta anche solo schippare il video tu parti col video dopo devi scegliere se passarlo che è una cosa un po' diversa ma quanto si sta bene su internet magari ascoltando comodamente l'ultimo daily cogito sul divano e quando si sta bene pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su daily cogito noi collaboriamo con nordvpn per ricordarvi anche quando siamo comodi quanto sia importante proteggere la propria connessione internet nordvpn è azienda leader nel settore delle vpn una sorta di tunnel criptografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navichi su internet tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati vorrebbero accaparrarseli sottoscrivere un abbonamento con nordvpn è una cosa molto saggia non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online ma anche perché avrai accesso al servizio threat protection un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la vpn è disattivata e poi grazie a noi e al link che trovi in descrizione potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale con 4 mesi gratis in più ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati grazie a nordvpn e grazie a voi non ve ne pentirete e adesso torniamo allo show vuoi aggiungere qualcosa al riguardo? sì sì no sono d'accordo e soprattutto noi veniamo la mia generazione è a cavallo con la tecnologia con questa rivoluzione di internet di social media e social network volevo dire e una volta facevi zapping in tv non ti piaceva un film schippavi cioè non mandavi la lettera all'emittente no a me sono indignato che schifo vergogna quelle robe lì adesso invece come dice lui un concerto te le vai a vedere quindi dipende c'è un feedback diretto la tv generalista allora devi stare molto attento a quello che che fai a come lo fai a come veicoli il messaggio a quale messaggio è in realtà però uno non deve rinunciare alla libertà ma ha maggior ragione quando ha un suo canale un suo posto nel mondo piccolo grande nicchia non importa e a proposito di questo però mi hai fatto vivere mi hai fatto rivivere una cosa incredibile quando vai a un concerto tu sai a che cosa stai partecipando ecco a me è successo con Immanuel Casto a un teatro famoso a Lucca di cantare e era veramente due giorni prima che iniziasse il Lucca Comics o il primo giorno del Lucca non mi ricordo avevamo fatto il tutto esaurito già da giorni prima quindi il teatro era felicissimo di accoglierci no? e era all'epoca il Sognando Cracovia tour e noi abbiamo il nostro fonico se c'è qualche problema fa tipo buon compagno con Ambra all'epoca cioè quando veramente capita raramente però a volte capita che dice che dica qualcosa no? la persona che sta di fronte a noi per avvisarci ragazzi guarda abbiamo solo dieci minuti perché a volte ci dilunghiamo no? quindi noi cantiamo a un certo punto il buon compagno della situazione ci dice altre due canzoni e dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere e ce ne mancavano una decina dei canzoni sai tutto il pubblico tutto entusiasta ma quant'è che avevate cominciato più o meno? no ma il concerto durava quasi due ore fai conto che era un'ora e un quarto che per noi no era strano perché eravamo nei tempi non erano non avevamo sforato non avevamo fatto nulla di male e lui tremendo proprio tranchant e fa dobbiamo chiudere due pezzi e basta e dobbiamo chiudere che poi tu non è che allora tu sai senti le voci ma veramente senti le voci non è che puoi dire perché perché al microfono la gente ti prende perché signor fonico e quindi noi così abbiamo scoperto che in prima perché il teatro ci ha chiamati senza sapere chi fossimo ha visto Sognando Cracovia Tour e ha pensato fosse una nuova opera capito tipo la traviata eh Sognando Cracovia e quindi si ritrovano noi due ma non c'era Barbero che parlava di Cracovia c'era il Vescovo in prima fila il Vescovo che si faceva tutte le prime del di questo no si faceva tutte le prime no le prime no intendo le prime no ma scusa cioè noi abbiamo cantato che bella la cappella di fronte al Vescovo è un achievement devo dire meraviglioso cioè mi è stata a parlare a me de sensibilità no guarda veramente ve lo giuro quindi lui ovviamente l'ha presa benissimo non lo so perché noi non l'abbiamo visto però c'era il direttore della situazione lì che ci voleva uccidere ma scusa ma che ci chiami a fa ma ci ha chiamato lui eh non è e quindi è andata così da quel giorno in poi in quel teatro là non hanno mai più voluto sentire la parola Immanuel Casto dentro una frase il nome Immanuel Casto così ho fatto un concerto due anni dopo e mi hanno detto proprio se sale lui sul palco chiudiamo tu cioè mi hanno proprio minacciato due ore prima che cominciassi il concerto perché erano talmente traumatizzati da questa esperienza che qui per dire che purtroppo succede pure che tu fai un concerto fai il tuo va tutto bene sei contento sei felice in quel momento lì e ti ritrovi il vescovo che questa questa è l'esatto esempio di incapacità di valutazione di un contesto cosa che vabbè abbiamo parlato molto spesso su Delicogito in varie puntate tra cui se non mi sbaglio anche con te Renato se non mi sbaglio può essere sì quindi volevo sapere anche un po' può essere quindi ma io ero un briago e quindi e quindi mi piacerebbe sapere un po' tu che cosa ne pensi di adesso dell'incapacità delle persone di sapere valutare un contesto ovvero io vado in uno spettacolo teatrale ho pagato magari sono stato invitato non lo so e io mi offendo per quello che viene detto da lo stand up comedian l'autore il musicista questa incapacità di valutare un contesto secondo te è dato solo da una sensibilità della persona che quindi lo rende molto più emotivo o potrebbe esserci anche qualcos'altro magari potrebbe essere una poca istruzione riguardo a questo all'incapacità di sapersi costruire pienamente un pensiero critico e dire ok è una sua performance sta esprimendo un suo concetto e io non gli do neanche la possibilità di esprimersi non gli do la possibilità di esprimere la sua idea e io di tenere le mie posizioni ma senza per forza insultarlo mandarlo a fanculo ma al di là che secondo me una persona può tranquillamente sbagliare il contesto cioè nel senso facendo stand up ti capita di andare a fare spettacoli e qualcuno se ne va a un certo punto perché non pensava che si spingesse tanto l'argomento o che toccasse queste tematiche quello ci sta un po' meno magari ci sta che ti mandano a fanculo mentre se ne vanno oppure che ti insultano una roba del genere no al comico fa piacere perché è un gancio e dici altre cose però ti fa capire che stanno picchiando nella parte sbagliata perché si fanno ulteriore male in quel caso tu cosa fai alimenti tipo ah te ne vai come tuo padre allora io non sono uno di quelli il padre allora io non sono così hard nei contenuti però fai anche tu a prendere le sigarette figliolo è tutto molto difficile però diciamo che non avendo sì tratto anche delle tematiche un po' forti però non sono così eccessive ho visto spettacoli di stand up un po' più eccessivi e vedi la gente che se ne va e tu dici ci sta quelli che invece parlottano mentre se ne vanno si fanno male da soli quindi quella è una tematica poi l'altra tematica potrebbe anche essere al di là che un comico può decidere quanto manifestare cioè molto spesso nelle locandine uno dice anche abitati minori 18 anni diamo anche degli spoiler alert stai vedendo peghi 18 stai vedendo questa esatto peghi 18 stai andando a vedere qualcosa di forte altri non lo fanno lì magari ci sono anche delle ingenuità ingenuità anche delle organizzazioni come è successo nel caso vostro organizzazioni ogni locale molto spesso io mi sono trovato a fare una serata di stand up in Toscana prima di me c'era uno che diceva le barzellette di Berlusconi con la chitarra poi un imitatore un po' strano e poi io che dovevo fare tutto uno spettacolo che parlava di razzismo violenza sulle donne cioè ero proprio fuori contesto in quel caso e infatti ho sudato e ho lottato per un'ora perché hanno chiesto uno spettacolo in un posto dove quello spettacolo non doveva esserci quindi uno fa adesso noi comici facciamo anche molta attenzione dove andiamo facendo la stand up perché una volta con la comicità classica dove vai vai era molto più aperta non si poteva non neanche ti immaginavi di poter toccare certe tematiche quindi era funzionava se funzionavi tu che facevi ridere o facevi cagare erano l'unici due problemi adesso c'è anche quest'altro problema qua l'ultima cosa che posso dire sulla sensibilizzazione è che oggi più di ieri e magari domani ce ne sarà ancora di più ogni sensibilizzazione è stata messa dentro una categoria per cui magari uno che non pensava o non era così sensibile a un argomento inizia a pensare io faccio parte dei ciccioni no scherzo questa va detta apposta io faccio parte di questa categoria ha fatto una battuta su questa cosa qua ho il diritto di incazzarmi e farmi sentire ok e non capisce magari qual è lo scopo del comico facendo quella battuta lì magari è una battuta che fa su se stesso magari è una battuta che fa per rendere un contesto comico magari è una battuta perché la comicità deve sentirsi libera di fare battute su qualsiasi cosa che percepisce nel mondo però oggi c'è più attenzione nel dirti se fanno una battuta su questo è omofobo se fanno una battuta su questo è transfobia su questo è mancata la parità di genere eccetera e se vai a bene vedere la comicità si basa su un'unica cosa prendere un bersaglio e distruggerlo anche la battuta più innocua innocente comunque prende un bersaglio e lo distrugge non puoi pensare che ci vai sempre con sì ci sono le battute ironiche fini delicate però non è che possiamo basare tutto su quello perché se vuoi esprimerti devi sentirti libero di dire qualsiasi cosa quindi le sensibilità oggi sono ipersensibilità perché sono iperstimolate penso dai social non che un tempo non si fosse sensibili o non si capissero i concetti però magari non si aveva quella voce che oggi risuona molto di più ecco tutto qua no no sono pienamente d'accordo su questo poi ovviamente vabbè uno decide come trattare i propri haters come trattare le persone che non sono d'accordo col proprio discorso io sono dell'idea che bisogna trattarli un po' come i brufoli bisogna lasciarli là perché se stai lì a schiacciare però devi andartene diventano sempre più grandi bisogna anche capirli comunque perché dipende appunto sempre dal contesto in cui ti scoprono e ti vedono io credo che bisogna avere anche un po' più di apertura anche nei confronti di chi si offende perché qualcuno a un certo punto un passo in avanti dovrà farlo se noi rimaniamo io posso dire che cazzo voglio me ne frego e dall'altra parte non devi dire queste cose se no ti denuncio e cazzo non troviamo una via di mezzo tra queste due cose non aumenta la cultura cioè rimane sempre che io parlerò una nicchia e loro si guarderanno altri comici vabbè non voglio sono stato furbo ho detto altri comici altri comici ciao ciao altri comici e secondo te questa domanda mi piacerebbe farla tutti e due ovvero in che modo secondo te si può educare le persone ad avere meno sensibilità o comunque saper perfetto mi piace perché quelli live non capiranno dietro perché c'è uno stronzo che poi secondo me è nazismo Ari ma fate vedere vi è qua vi è qua fate vedere e gira la telecamera fatti un selfie con la telecamera ma sai anche secondo me un altro problema della comicità è che rispetto a altri campi artistici è più giudicata è più sotto il mirino perché se io scrivo un film o faccio un'opera letteraria che tocca anche certi argomenti forti che usa anche un linguaggio forte quello è accettato perché è arte ok quando invece vedi un comico innanzitutto c'è la prima errore che fa molto spesso il pubblico è di considerare il comico la persona è una persona che sta sul palco e sta facendo la sua parte o un mestiere o esprime la sua arte non sono la stessa cosa cioè io la comicità gioca tutto sull'esagerazione sulle iperbole gioca tutto su creare strappi ok quindi non è che quando io sono sul palco sono Renato Minuto al 100% cioè sono Renato Minuto al 200% una cosa che non direi mai al bar qua la posso dire ok perché vai a esagerare però c'è questa confusione tra la realtà il comico e il personaggio che è sul palco su un libro non dici ma che cazzo sta scrivendo Saramago mo lo denuncio no sicuro non ti risponde questa cosa non c'è perché forse il comico deve essere anche qualcosa generalmente forse in Italia come cultura deve essere anche qualcosa di più rassicurante qualcosa che riguardi 100% l'intrattenimento e non toglie che possa essere 100% l'intrattenimento un comico ma un comico può anche essere uno che dice no io voglio fare satira e ricordiamoci che secondo me la satira non è uguale comicità io posso fare satira senza farti ridere anche ok è un obiettivo di deflagrazione di un target ok tutto qua allora mi piacerebbe collegarmi a questo discorso meno che tu non abbia qualcosa da dire a riguardo signora mia no nel senso che lo capisco a differenza dei registi e concludo brevemente veramente il comico come il cantante soccombe molto la sua biografia cioè se tu non chiederesti mai veramente a Quentin Tarantino si ha mai tumulato qualcuno perché hai visto Gilbil cioè non so come dire e invece noi la subiamo io almeno nel campo musicale se fai musica pop pop è inteso che che segue una certa regola no il ritornello insomma è molto che vuole tende ad essere popolare no inteso in quel senso lì e quindi con degli agganci degli hook li chiamano no eccetera in teoria ci si aspetta che uno sia educativo no che dice ma sai Romina bisogna sempre essere educativi nelle canzoni ma chi cazzo so a Montessori che te devo educà ma perché no però questa cosa è terribile perché uno impara no a volte e purtroppo i gomi cioè noi siamo una categoria proprio dei figli della merda no nel senso che non abbiamo no viva la merda facciamo crescere i fiori stasera oggi sono proprio francese ma si va benissimo ti abbiamo invitato apposta alle 11 le faccio sì sì ma chi so la Montessori ma chi so la Montessori ma perché io devo educa ma io insomma anche educa mi nipote cioè nel senso non riesco neanche e quindi volevo soltanto no 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 mi è piaciuto molto questo tuo commento infatti mi piacerebbe collegarmi un po' al vostro rapporto con il personaggio che interpretate perché c'è chi interpreta un personaggio perché gli piace prendere questa opportunità creativa per sperimentare altre parti della sua personalità fare qualcosa di completamente opposto rispetto a quello che è c'è chi invece come magari quello che un po' hai cercato di esprimere che tu ovvero tu non vuoi essere solo Renato tu vuoi essere il 200-300% di Renato e mi piacerebbe sapere un po' qual è il vostro rapporto con il personaggio o i personaggi che interpretate perché magari potrebbe essere che ci siano vari tipi di personaggi in base ai contesti in cui voi vi esprimete e mi piacerebbe partire da Romina così magari da una considerazione più interessante anche perché tu sei anche legata ad alcune tematiche che possono essere più delicate come il femminismo come l'LGBTQ+, Dyson, Super Plus eccetera cotta a legna no sta aggiungendo cose esatto esatto il mondo LGBTQ cotto a legna cotto a legna esatto perfetto sai quando aggiungono no allora io nella 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 praticamente nella vita sono un disastro nel senso che mi sento proprio sgretolabile sono molto fragile sei friabile sono friabile cioè mi muovo come si dice non vivi per non morire cioè nella vita sono molto fragilina e sul palco e solo sul palco e non si sa perché mi devo far vedere da uno bravo secondo me cioè lì è l'unica volta dove io cerco di far vedere la Romina che vorrei essere anche nella vita perché ho fatto un sacco di cioè io predico bene il razzolo malissimo cioè so una che ti dice goditi il momento guarda che tardi è tardi guarda che così e poi so la prima che oddio avrei dovuto chiamare avrei dovuto avrei potuto quindi nel senso però uno cerca di almeno attraverso la chiamo arte ma ormai arte è talmente abusata come parola che quando uno dice sono un artista io gli pire a schiaffi ma è brutto da dire però te lo devono dire gli altri nel senso però in generale quando hai a che fare con la comunicazione e crei una performance una canzone un'opera d'arte un film eccetera cerchi attraverso quel mezzo di tirare fuori il tuo buio alle volte oppure vuoi raccontare come avresti voluto no vivere oppure c'hai uno sfogo è una cosa che non puoi andare in un bar e dici porca troia che sembri una matta e allora lo fai attraverso una canzone perché perché lì è concesso tutto ecco è il posto dove io mi posso permettere veramente di far vedere il peggio e il meglio e per quello sono però un po' una mosca bianca in questo senso qua perché molto spesso al mondo a cui faccio riferimento cioè il mondo della musica in generale ultimamente soprattutto in Italia tende molto a mostrare le buone intenzioni delle persone che è bellissimo perché non è che io ho solo cattive intenzioni però non c'è mai l'umanità oscena no perché l'essere umano è miserabile esiste l'umanità oscena cioè no esatto e invece è bello a volte anche far vedere le titubanze le paure le cose e quella cosa lì la trovo incredibilmente stimolante vorrei chiedere appunto a Renato in questo senso qua tu nella comicità a volte metti anche vabbè nella satira però fai tante cose te no cioè ti capita mai di mettere anche come avresti voluto che andasse una determinata cosa oppure ti capita mai di far vedere anche il lato più brutto di te e tanto con la scusa che tanto stai facendo un personaggio magari nel senso stai entrando no in Renato al quadrato no come dici tu sì sì la stand up ti offre questa opportunità di tirare fuori infatti mi è piaciuto il lato scuro il cuore nero di quello che siamo infatti molti pezzi forse quello che forse ha fatto più male al pubblico a un certo punto in uno spettacolo ho detto che mi stava sul cazzo il mio cane e questa cosa diceva come sta sul cazzo il cane dico che mia moglie mi sta sul cazzo tutto bene il cane che ti sta sul cazzo invece che roba è sta e allora spiegavo il motivo per cui mi stava sul cazzo il mio cane perché era un periodo che mi stava sul cazzo il mio cane perché mi svegliava non spiego esattamente il perché no ripeti più lentamente la frase ripetela più lentamente no non sto a spiegare esattamente il perché perché è un pezzo un po' lungo però motivavo la scelta e e facevo capire che cosa volevo dire però tiravo fuori un lato scuro una roba che non dovresti mai dire cioè che in quel momento della tua vita non sopportavi un animale che proprio sono se potessero scrivere loro su facebook indignarsi loro sarebbero veramente super ascoltati ora questa cosa qua a me con la stand up aiuta tanto parlare delle mie crisi soprattutto per due motivi uno per quello che ci siamo detti prima che parlando di quello del marcio che c'è in te non coinvolgi gli altri direttamente si possono rivedere in te ok quindi dici non corro rischi che qualcuno si sia offeso e due ti aiuti anche a tirare fuori delle cose un po' più particolari originali vere e sincere che il pubblico percepisce come vere e sincere nonostante magari le ricami un pochino perché stai tirando fuori emozioni nuove cioè nuove o perlomeno non le solite cose che potresti sentire uno spettacolo o sentirti dire un comico se no siamo tutti uguali tutti dovremmo parlare delle giornate all'Ikea tutti parliamo della moglie che lava i piatti e il marito invece che lavora cioè si andrebbe sempre sugli soliti stereotipi tirare fuori qualcosa di vero e magari riderne so cioè immagino che ogni comico come anche io prima di tirare fuori un argomento è ovvio che l'ho sviscerato l'ho analizzato se no magari lo faccio sul palco mi metto a piangere ok io volevo parlare di questa cosa molto buffa che mi è successa e poi piango dico no sono una merda mi ammazzo ok raccontando la tua giornata all'Ikea ovviamente esattamente esattamente avevano finito le callax quindi io credo che quello sia il vantaggio di potersi esprimere liberamente e fin lì tutto bene se tu ti esprimi liberamente però su un argomento generale allora lì iniziano i veri problemi ok e quindi è lì la differenza quindi il comico molto spesso gioca anche sul parlo di me così e oggettivamente nessuno può rompermi il cazzo perché sto parlando di me stesso è un bellissimo modo di usare l'arte o la stand up comedy o la musica per mostrare le proprie diciamo insicurezze le proprie fragilità al tempo stesso io sono convinto che purtroppo molte persone fortunatamente voi non siete minimamente inclusi in questo discorso che abusano di questo concetto per dire ah io voglio mostrare delle insicurezze che però magari che non ho però so che funzionano per attirare il pubblico io purtroppo ho visto molti artisti che abusano di questa cosa perché hanno visto che creano un legame con le persone anche se magari è qualcosa che non vivono veramente in prima persona come magari potrebbe essere un passato difficile difficili relazioni familiari o casi di depressione e a me piacerebbe chiedere a voi ovvero in che modo voi anche riuscite ad essere i più onesti possibili con voi stessi ovvero questa cosa qua è qualcosa che io sento veramente che so che è qualcosa che può anche aiutarmi a stare meglio perché uso la musica per anche come se fosse un po' un'autodiagnosi come cercare di vedere una parte più metacognitiva di come siamo noi o se tu ogni tanto potrebbe succedere che fai queste cose perché sai che questa cosa può funzionare per il pubblico perché credo che sia molto difficile riuscire a trovare il giusto confine in quanto artista perché sai che alcune cose possono funzionare perché ti creano un legame più stretto col pubblico ma magari non sei completamente sincero con te stesso secondo me non siete minimamente voi il caso ma in che modo secondo voi si può cercare di essere più onesti possibili con se stessi quando si crea un'opera ovvero no io questo lo voglio fare perché io veramente io sento il bisogno di farlo allora stai parlando con una persona che morirà povera no nel senso che io proprio scelgo proprio la via difficile nel senso che le volte che mi è capitato di provare a fare il percorso gigione non lo so io credo molto nel destino nei segnali scusami ci tendiamo a dire sapendo che questo è il tuo mestiere esatto sì sì esatto nel senso che io proprio non ce la faccio a fare quelli che io chiamo i gol a porta vuota i gol a porta vuota è quando dici viva la pace che non è che io voglio la guerra cioè nel senso per carità signora non stai né con la guerra né con la pace no però sei però però no voglio dire che ci stanno quelle quelle frasi quelle cose che uno dice perché va di moda adesso quell'argomento era nel mio territorio scusa ma tutto è stupido vai no adoro adoro è un momento provocatore adoro e voglio dire in realtà non mi diverto proprio cioè nel senso e le volte che ho fatto una pazzia che ho detto ecco lì adesso la mia carriera è finita perché io mi sono fissata e invece poi funzionavano le cose tipo magari muori io non mi scorderò mai mi chiama Taffo cioè che già fa ride sta cosa mi chiama Taffo e mi fa ti va di il social media manager Riccardo Pirrone mi fa io ho ascoltato il tuo disco io adoravo la pagina di Taffo dico ma no ma dai ma veramente ti va di fare una canzone per Taffo perché non lo conoscesse Taffo è un'agenzia funebri famosa per la satira appunto per per fare battute un po' sopra le righe scherza sulla morte quindi sui social ha fatto strada presto perché era l'unica che faceva e quindi io scrivo questa canzone la faccio sentire ad alcuni addetti ai lavori e mi hanno detto di tutto cioè mi hanno detto ma sei pazza vabbè che sei strana però cioè dici vabbè arriverà un TSO che ho fatto di male o lo scrive Ninna la vita cioè io non ho detto e goditi la vita che poi magari muori cioè nel senso è tutta così è tutta estrema quindi la facevo sentire adetti ai lavori che appena la canzone ci ha condiviso Mentana e tipo la canzone poi esplosa perché ha riso tantissimo io gli sarò sempre grata a Mentana ma come i padri veramente io questa cosa è una frase che non mi sarei mai aspettato di sentire sono grato a Mentana no però no nel senso che una persona puoi dire quella senata con Adinolfi veramente no ma intendo sai perché cioè nel senso che magari dei tanti amici famosi che hai cioè ti condivide una persona che non conosci che comunque ha una audience molto forte e no ti fa piacere il fatto che quindi sta roba schizza dovunque e noi credevamo che diventa sai che adesso il concetto di viralità è molto labile nel senso che una volta è una cosa virale durava un mese un anno adesso già è tanto se dura sei ore quindi in realtà abbiamo detto vabbè sui social al massimo durerà 24 ore questa cosa qua oh esplosa la canzone e tutti gli addetti ai lavori dicono no ma si sei stata un genio ma come mi hai presa a carci l'altro ieri che ti ho fatta sentire prima quando mi diviseste quello famoso no quindi per dirti a volte è una botta da matto e questo mi permetto di dirla al di là della musica ci vuole se ti appoggi su una cosa che è gigiona io la chiamo gigiona ma intendo il famoso gol a porta vuota territorio abusato dove dici una cosa e dici vabbè grazie al cazzo quella cosa che ti suscita quella cosa lì secondo me serve un pochino osare chiaramente bisogna avere pure la stazza un po' un po' di convinzione cioè devi sposare la causa certo certo vuoi dire qualcosa riguardo no io direi dato che personalmente come percorso scelgo sempre quello che voglio fare e non vado quasi mai nelle scelte giuste la prossima volta pensa che cosa farei ok faccio l'opposto appunto mi complico la vita per amore di quello che faccio nel senso che magari un mio video esce anche ogni tot perché ci metto un casino a scriverlo dico ma perché cazzo mi sono messo a fare sto video che adesso ci metto una vita per scriverlo poi soprattutto sai vedi anche il paragone con quelli che fanno i video da 40 secondi ne pubblicano un botto hanno inevitabilmente più pubblico successo di te e tu sei ancora lì che dici ok devo ancora finire di scrivere il mio però sono scelte che fai che ti porti dietro io ho scelto di non scegliere quella via lì ed è un modo per affermarmi e determinare quello che sono e quello che sono è andare sempre in continua ricerca di cose nuove da fare è una una tattica furba assolutamente no fantastico assolutamente no perché oggi converrebbe avere una roba fissa e martellare su quella e io quella roba lì non riesco a farla dopo un po' devo mollarla e fare qualcos'altro però non era una scelta che paga oggi e anch'io morirò povero con te meraviglioso beh direi che un'ottima conclusione questa morirò povero grazie adesso se ci sono un po' di domande del pubblico quindi alzate la mano se avete qualche cavolata no 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 ce l'ha ce l'ha già Valeria non c'è nessun problema perfetto benissimo ciao e grazie volevo fare una domanda romina volevo sapere se fare satira da donna è più difficile e se essere una bella donna è un'ulteriore complicazione allora io nella prossima vita se ce ne sarà un'altra voglio un pisello così ma effettivamente è molto utile perché se sei in fila al bus tu dici ah e ti siedi su te stesso è anche pratico devo dire ma tipo cuscino per le morroidi spero di no che se rigira su se c'è beh sì esatto ma se ho fatto un film è troppo brutto scusate ti usi come treppiede bello ci sta allora nel mondo della musica se ridi su una cosa seria già sei un pazzo nel senso che purtroppo non esiste ma a me piace da morire ma a me piace da morire proprio quello che faccio una cosa che un domani nessuno mi può portare via cioè non è che ci parto da casa e dico oh lo famo strano alla verdone io vengo proprio da una famiglia che ama il black humor e non riuscirei ad essere diversa da così quando ho deciso di puntare cioè a far vedere quel mio lato attraverso le canzoni io ho trovato più porte chiuse che altro poi però ti dico sta cosa che alla fine se una cosa cioè se studi per una cosa se la vuoi fare a tutti i costi allora se rompi dei muri devi sporcarti nel senso che se sei il primo a fare quella cosa è sicuramente molto più difficile duro purtroppo essere una donna in questo momento storico ancora è molto difficile cioè se penso a noi donne a quanto abbiamo lottato ancora voglia cioè ancora qua non se ne esce capito ancora ci stanno tante cose da cambiare però mi piace far parte di questo momento storico cioè vivere in questo momento storico qua fare così no? tirarmi sulle maniche e dire esatto e fare così scusa una diapositiva l'ombrello cioè alla fine bisogna anche fregarsene e riguardo l'aspetto estetico io vengo da una realtà molto povera ti dico la verità e c'ho sta fissazione qua io sono un po' la data francesca non so se vi ricordate a Sitco io so proprio quella cosa là cioè io arrivo sul parco proprio perché vengo da ho passato veramente un'adolescenza poverissima per cui adesso sto su un parco mi presento tipo Madonna del petrolio cioè che dico c'ho sta occasione sì io sono tutta esasperante però alla fine è la mia armatura se uno pensa vabbè questa si fa a platino magari c'ha tuzzine così allora sicuramente allora cioè lì faccio selezionare la porta cioè non me leva mai la mia armatura cioè ci tengo tanto ad avere sti contrasti poi dentro sono muratore mi senti cioè però sono nata così che devo fare cioè una volta la nascondevo sta cosa adesso proprio non me ne frega più niente perché ho capito veramente che la vita è una poi non so se è una però al momento mi viene da pensare che è una nel senso che a me una basta esatto dopo la canzone mo devo pure portarla avanti quella cosa capito? qual è il problema vuoi dire qualcosa anche tu sulla tua bellezza? come gestisci la tua bellezza sul palco Renato? Renato parliamo della prossima vita non vuoi essere donna non la vorresti la sorca nella prossima vita la voglio anche adesso se ci sono altre domande al pubblico altrimenti me ne vado a fanculo eccolo ciao Iuri Renato qualche spoiler su prossimi progetti o anche spettacoli? l'unico spoiler è che adesso sempre sto lavorando su uno spettacolo che racchiude un po' i miei diciamo personaggi che ho fatto fino adesso dalla guida coniugale a Barbero e questo sempre un po' legato al fatto che sì ho fatto tanta stand up e adesso sono in difficoltà a scrivere dei pezzi su di me e di stand up proprio perché sto cercando di capire un po' chi sono io e mi capita di scrivere dei pezzi che mi muoiono e si sbriciolano si sbriciolano proprio tra le mie mani dopo un mese che ho cambiato magari completamente idea su questa cosa qua come la pensavo un mese fa e questa è la cosa forse bella dei personaggi e che ti permettono di esprimere una parte di te che non sei te e in questo momento vorrei divertirmi con questo aspetto qua benissimo beh direi che si è conclusa ringrazio tantissimo il pubblico e ringrazio tantissimo Romina Falconi grazie buon Renato è stato un grande piacere moderare questo incontro grazie